Musica E lunedì 17 ottobre, buongiorno, il primo appuntamento della giornata con informazione di Telemulise come ogni lunedì in apertura del nostro Tg del mattino c'è la rassegna stampa partiamo dal web dal giornale del Molise.it andiamo a leggere i titoli sull'home page nuova legge elettorale regionale, tutti la vogliono, nessuno la presenta e l'apertura di oggi poi le altre notizie, posto di blocco dei carabinieri a Esernia Nord scattano denunce e sequestri pesche l'onorevole boccia svele contenuti della nuova legge di bilancio stop ai furbi, porteremo l'Italia fuori dal caos, ha detto il parlamentare Campobasso, 10 scuole sorvegliate speciali per la sicurezza sismica dal Gran Gourmet al dessert allo street food torna su Telemulise in cucina con lo chef, ne parleremo più avanti ancora da Termoli come comportarsi in caso di alluvione in piazza alla campagna in un rischio Isernia provincia anche il vescovo Monsignor Cibotti a sostegno dell'avvertenza degli ex cantonieri e poi Castel del Giudice conquista il Cresco Award è la migliore località sostenibile d'Italia e poi vedete a scorrere gli altri titoli vi segnaliamo le sezioni editoriali, idee ed opinioni con il contributo di Adele Fraracci la sorella di Schopenhauer era una escort intervista all'autrice del libro Simonetta Tassinari poi le notizie dalla regione e dall'Italia I giornali regionali in edicola partiamo da primo piano Molise con la prima pagina l'apertura sanità scintille sull'integrazione Roma vuole approfondire la regione dovrà produrre altri documenti ma Frattura resta fiducioso intanto la cattolica chiede 50 mila euro di risarcimento a Italo Testa per un'intervista il pro Cardarelli dice fuori le carte sulla vulnerabilità sismica poi si parla anche di tangenziale nord i dubbi aumentano di Bartolomeo accende i riflettori sul primo lotto è stato eseguito il collaudo si chiede e chiede l'ex sindaco l'appuntamento autonomia alla Will scrive a grasso alla vigilia della visita il Molise esiste e non può essere cancellato e poi da Isernia fondi per le periferie il comune conta sulla promessa di Renzi con il nostro progetto la città sarà più vivibile Termoli, gli operai dello zuccherificio non si arrendono al via la quarta settimana di presidio e poi come di consueto ampio spazio allo sport con i titoli di calcio Serie D Alleanza Molisana Agnone pari a Iesi e vetta solitaria per quanto riguarda la squadra artomolisana Lupi colpo a basto con Sodan e Fioretti il campo basso vittorioso in trasferta l'eccedenza vasto Girardi e Macchia niente aggancio al vertice promozione Boiano Corsano a Sant'Elia Rocca Sicura in piena ascesa e per il calcio regionale poker Fortitudo Cerri Real Gildone di Laga Rocca Vivare Calena punteggio pieno San Giovanni Toro X sorpresa tre archi negli allievi Mirabello ne fa sette in Puglia altri sport Dinamiche il globo ancora all'asciutto nuovo successo sul figlio di lana Bellairino l'Europea 92 torna da Altino con i primi due punti era primo piano Molise il quotidiano del Molise adesso Michela Fanelli sotto la testata la manovra del governo farà ripartire l'Italia ai piccoli comuni giudizio positivo del segretario PD sulla legge di bilancio violenza donne Elena Grande grave ritardo per i fondi dalla regione continua il dibattito sulla violenza sulle donne da Via Genova poi nessun riscontro antisismicità cattolica il comitato Pro Cardarelli in calza frattura da Campobasso due serate con Piovani pubblico incantato applausi a scena aperta ieri e sabato e si parla anche di referendum Gargania di Sernia le ragioni del no Campomarino è stata alle 16 presto cantieri aperti prevista la realizzazione di rotonde e poi titoli di sport il calcio di Serie D il Campobasso comanda l'Aragona Sport Sodin e Fioretti a segno nel primo tempo Felici non bassa la vastese e tifosi in festa per la vittoria rosso-blu Serie D ancora l'Agnone pareggia Iesi si isola in testa la classifica eccellenza va a soggirare di K.O. Corriccio il termo li torna a vincere FIGC successo per il Girl Football Open Day è l'altro titolo che troviamo sul quotidiano del Molise i titoli del quotidiano telematico futuro Molise adesso sanità pastore il nostro governatore vuole investire sull'edilizia delle strutture private soldi pubblici dopo la Neuromed e l'ora della Cattolica Campobasso corso di Apicoltura APAM 2016 esami e consegne attestati un grande successo per partecipazione e futuribile sbocco occupazionale fondi non autosufficienti bloccati a novembre 2015 311 famiglie in difficoltà la regione assente Calenda dell'AMNIC dice se non ascoltati pronti a sit-in di protesta in regione poi si parla anche di centri antiviolenza in Molise Elena Grande del PSI dice recuperiamo e accorciamo i tempi legge di bilancio segretario del PD Fanelli misure che riguardano al futuro sociale di investimenti mettendo in prima liene i comuni protagonisti del cambiamento Ripalimosani Parpiglia inaugurata la nuova palestra costruita con metodi innovativi per la sicurezza e il risparmio energetico e poi si parla ancora di legge di bilancio 2017 ecco il Cine manovrone di Natale Renzi dispensa mangio e bonus a tutti per far vincere il Sì referendum sulle riforme nel premio Oscar Nicola Piovani si dichiara contrario a schieramenti e pura follia provincia di Campobasso il presidente Battista ha indetto l'assemblea dei sindaci e poi il forum internazionale di Cernobbio su agricoltura ed agroalimentare positive le considerazioni di Coldiretti Molise e poi a scorrere gli altri titoli sull'home page di Futuro Molise i quotidiani nazionali adesso nella nostra rassegna stampa il Corriere della Sera vediamo l'apertura c'è questo fondo l'illusione di salvare quei confini di Angelo Panebianco dedicato alla guerra in Siria ed Iraq e poi il titolo principale tasse e cartelle le nuove regole conti pubblici la guida versamenti e scadenze la sanatoria parziale per le notifiche entro fine anno Renzi dice l'Europa deve aiutarci in poste non versate per 93 miliardi di euro e poi liberata da Bic e partono i raid sulla città di Mossul lasciamo il Corriere della Sera per andare a vedere la prima pagina di Repubblica Equitalia sconti fino al 50% evasione record ma tempi più stretti per pagare le rate manovra Renzi l'opposizione voti sì è l'appello del Premier e poi quelle cupole volute da Putin che oscurano la Tour Eiffel la nuova chiesa orto-rossa rivoluziona lo skyline di Parigi Siria un altro colpo al califo cade la città simbolo dell'Isis i ribelli appoggiati dai turchi conquistano Dabik pronto l'assalto a Mossul la cultura poi highway caro figlio ti scrivo le mie prigioni e poi spiegare ai ragazzi fo e gli antichi maestri novecento tra agiografie e calugne questi i titoli principali su Repubblica vediamo anche la stampa sulla manovra il gelo dell'Europa e il titolo di apertura dopo l'approvazione del testo al Consiglio dei Ministri comincia la trattativa con Bruxelles in attesa dei conti definitivi l'Unione Europea dice non era quel che aspettavamo il Premier diano una mano sui migranti e poi centropagina acchisce sull'isola dell'edonismo iraniano con certi turisti alberghi sfarsosi reportaggi dall'Oasi dove i divieti di Teheran sono meno rigidi e poi vedete monito a Putin USA e Regno Unito sanzioni antirussia per fermare i raid su Aleppo e poi ancora il voto in America un mese di gaffe e scandali Trump in caduta libera massimo vantaggio per la Clinton il Taycon scaricato dal partito il fatto quotidiano l'apertura di oggi andiamola a leggere insieme 8 miliardi di mance per il sì manovra dal canonerai alle scuole cattoliche soldi subito per gli indecisi questa è l'opinione del fatto D'Alema intanto dice G.P. Morgan USA e Company non si intromettano i giovani votano o no il vero PD vieta le riforme imposte a maggioranza e poi da Atene la favola Sipras è finita per i greci adesso torna la paura l'ultimo timore è perdere la casa c'è il rischio confisca storia di copertina mafia capitale non molla vogliono insabbiare tutte e poi ancora un'inchiesta le società in odor di clano ritrovano casa a Malta gli affari intorno al gioco online era la prima del fatto quotidiano vediamo adesso anche il messaggero di Roma Equitalia maxisconto sulle cartelle l'apertura niente sanzioni di interessi salta anche l'agio del 3% stop appignoramenti e processi l'evasione arriva a 109 miliardi l'anno l'IVA è l'imposta che sfugge di più ai controlli e poi centropagina liberata da BIC città simbolo occupata dall'ISIS la guerra in Siria giadisti messi in fuga dai ribelli anti-Assad e poi centropagina ancora ritiro della raggi guru di casaleggio errori su certi nomi per giunte consiglieri 5 mental coach il video selfie che imbarazza Virginia ovviamente ancora il titolo sul sindaco di Roma in basso asili nido più posti maestre laureate la rivoluzione in arrivo la legge che cambia la scuola fino a 6 anni vediamo anche il mattino di Napoli Equitalia ecco chi ha lo sconto e l'apertura è dedicata anche qui alle novità in arrivo dal governo i contribuenti coinvolti sono 20 milioni su 1.050 miliardi di debiti discorsi solo 91 con la cancellazione di sanzioni di interessi si dimezzerà il peso della cartella la misura case antisismiche bonus di 5 anni per chi ristruttura è poi ancora Isis e clan inchiesta sui tesori rubati Salerno dopo il servizio del giornalista Quirico a Bietri sul commercio di reperti libici il califo poi perde anche la città della profezia leggiamo ancora in basso il reportage i 13 che resistono nel carrozzone Clelli in attesa del referendum il consiglio dovrebbe dimettersi e poi alle medie con gli zaini spacca schiena viaggio con la bilancia tra le scuole di Napoli il peso è sempre fuori legge vediamo anche il sole 24 ore i titoli sulla prima pagina si apre così partite IVA chi ci guadagna con la nuova flat tax al 24% verso il debutto dell'Iri i calcoli di convenienza per artigiani e commercianti e piccole società pochi vantaggi se si hanno redditi bassi e detrazioni stop alle addizionali e poi ancora pensione più vicina con il cumulo gratuito dei contributi misti chance utilizzabile per la vecchiaia e ora per l'anzianità volontari la riapertura dell'ingorgo nell'ingorgo delle liste regolarizzazione alle prese con un intreccio normativo e poi Ecomars a quota 20 miliardi osservatorio B2C del Politecnico di Milano il valore raddoppiato in 5 anni la spinta maggiore arriva dai beni materiali e non dai servizi questi titoli principali sul sole 24 ore vediamo anche Libero che sceglie questa notizia per aprire a tutta pagina il giornale oggi da un flop all'altro Veltroni fa il becchino l'esordio di 10 cose il programma ideato da Walter al costo di un milione a puntata fa crollare il sabato sera di Raiuno ormai per Viale Mazzini all'Armerosso i nuovi vertici non ne azzeccano una le commissioni poi di Massimo Giletti non mi ama ne me ne vanto mi sopportano per gli ascolti cosa non si fa per un no poi ancora questo titolo senza volerlo D'Alema riabilita pure Berlusconi privatizziamola cambiano i governi la tv di stato fa sempre più pietà il fondo di Vittorio Feltri ed è ovviamente riferito al titolo di apertura sul programma di Veltroni le pulci alla finanziaria Equitalia abolita ma c'è il trucco e sul condono Gialletta ha fallito lasciamo libero per andare a vedere anche i titoli sulla prima pagina del secolo d'Italia Forza Italia dice no è l'articolo di apertura a firma di Carlo Marini primo piano fini MSI fu un modello AN era condivisa da tutti e poi cade da Bic botta anti-Isis fu la città della profezia terremoto 5.2 in Grecia si avverte fino in Salento è l'altro titolo che troviamo sulla prima pagina del secolo d'Italia chiudiamo i giornali nazionali andando a vedere la gazzetta dello sport Paradiso Milan vince col Chievo è secondo e sabato sfide la Juve in fuga aprono Cucca e Niang l'ex Birsa sorprende Donnarumma un autogol chiude il discorso ora i bianconeri a San Siro e intanto è inferno Inter dal caso Icardi al KO in casa con il Cagliari il capitano contestato anche sotto casa dagli ultra per l'autobiografia sbaglia un rigore il club vuole degradarlo oggi si decide anche De Boer sotto accusa le altre partite l'Atalanta blocca i viola la Lazio spreche fa 1-1 Sassuolo ok in rimonta e poi c'è il MotoGP in Giappone Valentino e Lorenzo cadono Penta Marquez che è già iridato e questi i titoli principali sulla gazzetta dello sport e prima di passare allo sport vi ricordiamo che da oggi torna in cucina con lo chef il programma di Telemulise che lo scorso anno ha avuto un grande successo tante le novità della seconda edizione con puntate ed ospiti speciali sentiamo Manuela Iorio dopo il successo della prima edizione torna oggi su Telemulise in cucina con lo chef programma veloce e dinamico tante le sorprese le novità della striscia quotidiana che sarà trasmessa da lunedì al sabato mentre la domenica andrà in onda una puntata speciale che racchiude il meglio della settimana a preparare i piatti come sempre sarà lo chef Nicola Vizzarri le novità sono il sabato per quanto riguarda il piatto da dessert da pasticceria quindi quello da riproporre a casa sempre con attrezzature di quello che si hanno e il venerdì un piatto di gran gourmet un piatto più importante da proporre in occasioni speciali in ricorrenze di feste quando uno ha un ospite un po' più particolare a casa un'altra diciamo inserzione che abbiamo fatto il piatto da street food cibo alla strada quindi rivisitato in chiave moderna alleggerito da proporre a casa ovviamente il programma si arricchisce di una new entry la bellissima Rachele del Borrello che lo scorso anno si è classificata al quinto posto del concorso di bellezza per eccellenza Miss Italia la prima esperienza televisiva per Rachele che accompagnerà lo chef in questa nuova avventura sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura di affiancare appunto uno chef che per me insomma è un esempio in quello che fa lo chef Nicola Vizzari perché anche io posso appunto imparare tanti segreti tante ricette perché essendo anche universitaria è importante per me poi riuscire a realizzare determinati piatti che poi potranno sempre servirmi in un futuro anche quest'anno tanti partner che scommettono sul programma tra cui arredamenti spazio cucina vitale di Termoli al cui interno è stato allestito il set quest'anno con una nuova scenografia siamo contenti di continuare questa collaborazione e quest'anno come potete vedere abbiamo rinnovato tutto l'immagine della cucina quindi abbiamo cambiato proprio tutta la cucina e speriamo di avere un ottimo successo un buon riscontro da parte del pubblico il programma è nato da un'idea di Gigi Di Simio tante novità dunque con puntate ospiti speciali in serbo per la nuova stagione questo è il secondo anno fortunatamente il primo i riscontri che abbiamo avuto sono stati tutti positivi e questo ci ha spinto a proseguire dallo street food al piatto di Gran Gourmet e poi alla presenza di Rachele e al sabato il dolce della settimana tutte queste cose daranno altra verva al programma e poi non nascondiamo diciamo che ci sono altre sorprese che adesso non svegliamo le teniamo però insomma chi ci segue continuate a seguirci tutti i giorni perché ci saranno puntate speciali saremo insieme anche quest'anno a Natale ci sono tante belle cose che in questo caso ci sta bene dirlo volano in pentola ed ora linea alla redazione sportiva con gli iArts Alfonsina e San Maurese 1 a 1 Castelfidardo Pineto 2 a 2 Chieti Matelica 1 a 4 Civitanovese Vispesaro 1 a 1 Fermana Monticelli 2 a 3 Iesina Olimpia Agnonese 0 a 0 San Marino Recanatese 5 a 4 San Nicolò Teramo Romagna Centro 3 a 0 Vastese Campobasso 1 a 2 ed ora la classifica in vetta la classifica della serie D c'è l'Olimpia Agnonese con 15 punti Vastese 14 Matelica 14 Fermana 13 San Nicolò Teramo 12 San Maurese 11 Campobasso 11 Civitanovese 10 Vispesaro 10 Alfonsina 9 San Marino 8 Monticelli 8 8 punti anche per Romagna Centro Castelfidardo 7 Iesina 7 Pineto 5 Recanatese 5 Chieti Chiude la classifica con 0 punti Straordinaria vittoria del Campobasso sul campo dell'ormai ex capolista Vastese I gol rosso-blu nel primo tempo esattamente al 21esimo e Sudant ad assumersi la responsabilità del calcio di rigore trasformato per l'1 a 0 in favore della squadra di Novelli Il raddoppio nel finale di tempo al 43esimo taglio di Meduri e stacco perfetto in area di rigore da parte di Fioretti che poi si fa tutto il campo per prendere gli applausi dei tifosi rosso-blu giunti all'Aragona Al quarto della ripresa il vasto di mezza le distanze con questa girata mancina da parte di Felici ma il punteggio non cambierà più fino alla fine Vastese 1 Campobasso 2 Isernia Cliternina 2 a 1 Treppini Matese Polisportiva Gambatesa 3 a 1 Venafro Pietra Montecorvino 1 a 0 pareggio tra Campodipietra il campo basso 19-19 con l'1 a 1 1 a 1 anche tra Guglionesi e Sesto Campano Spineta Alife 2 a 4 Termoli Macchia 1 a 0 Vasto Girardi Olimpia Riccia 1 a 2 ed ora la classifica di eccellenza Treppini Treppini insieme a Venafro aprono la classifica con 16 punti Vasto Girardi 13 Macchia 13 13 anche per Lisernia Guglionesi 10 Termoli 10 Alife 9 Polisportiva Gambatesa 9 Sesto Campano 7 Campo di Pietra 7 Olimpia Riccia 6 Campopasso 19-19 4 Spinete 3 e a 0 punti ci sono la Cliternina e il Pietramonte Corvino Il Termoli si impone sul Macchia di Sernia 1 a 0 gol al ventesimo Buonavoglia per Polzella che guadagna il fondo Sfera in mezzo a rientrare arriva in corsa Gagliano che scarica sotto l'incrocio dei pali il gol vittoria quello che regala al Termoli i tre punti e quello soprattutto che rilancia la formazione giallorossa Al secondo il Vasto Girardi sblocca il risultato con Contestabile Pareggia Riccia al quarantesimo con Morosillo e al 65esimo passa in vantaggio il Riccia con Silla Finale Vasto Girardi 1 Riccia 2 Termina 1 a 1 la gara tra il Campo di Pietra e il Campo Basso le reti nel primo tempo il vantaggio del Campo di Pietra Guglielmi riceve da Moffa in area di rigore e realizza il gol dell'1 a 0 nella ripresa da lancio lungo del Zingaro tocca per la Volnea Bolide Mancino e 1 a 1 finale Al quarto d'ora Ciccio Grillo porta in vantaggio la Life 1 a 0 il gol del pareggio lo firma Rossini che batte paglia per la marcatura dell'1 a 1 il 2 a 1 invece è opera di Palermo che converge in rete l'assist di Fraraccio nella ripresa Ciaburro sul rigore pareggia i conti 2 a 2 lo stesso numero 11 si replica poco dopo realizzando la rete del sorpasso e nel finale anche quella del definitivo 4 a 2 con il quale la Life batte lo spinete ed ora concludiamo con la classifica di promozione in vette la classifica Vulcania con 15 punti Boiano 62 14 Frentania 14 Roccasicura 13 Campomarino 12 Bois Siel 11 Matese 11 Molise 10 Roseto 9 Maronea 5 Baranello 4 a 3 punti la Santeliana e il Castelmauro il Biccari a 2 punti insieme al Real San Martino e Cerce Maggiore chiude la classifica di promozione con un punto ed è tutto per questa edizione del nostro Tg del mattino con la rassegna stampa io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione il telegiornale alle ore 14 a voi tutti grazie buona giornata